Grazie a tutti. Autorità, cari soci e cari soci, signore e signori, desidero innanzitutto rivolgere un ringraziamento sentito al Presidente della Repubblica per la sua presenza oggi, oppure ogni anno, alla seduta di chiusura dell'anno accademico di lucella, nella quale, oltre a consumare il lancio dell'attività svolta, saranno consegnati il premio Presidente della Repubblica, del Ministro della Cultura, dell'Accademia dell'Icella, e dei premi Antonio Ferdinieri, più rilevanti sul piano nazionale, valore, articolazione, prestigio ed eccellenza dei primati. Sono più che mai necessari una vera prego, la restituzione senza condizioni degli ostaggi e soprattutto una visione che risolva definitivamente la questione. Presidente della Repubblica, destinato a opere o scoperte concernenti le discipline comprese nella classe di scienze morali, storiche e filologiche, a Lorenzo Rezzi, per la vastità e la ricchezza dei suoi studi nel campo della romanistica e la loro rilevanza nel panorama italiano e internazionale. Presidente della Repubblica, Presidente Anglomeli, Algorita, colleghi e colleghi, signore e signori, Presidente della Repubblica, Presidente dell'Accademia dell'Accademia. Presidente dell'Accademia.